Suzuki Suzuki lancia S-Cross con motorizzazione ibrida e alimentazione a 140 volt. Cosa significa in pratica? 140 volt indicano il livello di ibridazione e descrivono una vettura che permette la trazione in sola modalità elettrica per qualche chilometro nelle condizioni ideali. Suzuki S-Cross fa dei pilastri Suzuki della qualità, della completezza dell'equipaggiamento e dello stile, i propri punti di forza. La qualità di una casa giapponese e di Suzuki in particolare è proverbiale sul mercato italiano. Fin dal 1980 i piccoli fuoristrada hanno dimostrato una grande affidabilità ed una grande capacità di trazione su terreni a scarsa aderenza. La completezza dell'equipaggiamento, diciamo tutto di serie senza sorprese. Anche S-Cross ha un pacchetto di guida assistita, un pacchetto nuovo di connettività che con un'app permette di dialogare con i sistemi della vettura e ha la possibilità anche di poter connettere qualsiasi standard di moderno smartphone ai sistemi audio multimediali. Lo stile è stato sviluppato nel centro stile di Torino, uno dei solo quattro centri stile Suzuki nel mondo. La completezza dell'equipaggiamento va a braccetto con una competitività complessiva dell'offerta. Grazie a un incentivo Suzuki in presenza di rottamazione di 2.500 euro la gamma S-Cross parte da 26.590 euro.